Su disposizione della Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza di Salerno è eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un 54enne imprenditore agropolese del settore Edile e altri 11 persone suoi prestanome. Già in precedenza il giudice per le indagini preliminali di Vallo della Lucania aveva disposto il sequestro del patrimonio complessivo perché l'imprenditore, seppur gravato da una misura di prevenzione patrimoniale, aveva continuato a gestire il suo patrimonio attraverso fittizi e compiacenti intestatari di beni per evitare ulteriori aggressioni patrimoniali. Su richiesta della Procura della Repubblica, il GIP ha disposto il sequestro di beni consistenti nel capitale sociale di una società e in due fabbricati e nove terreni siti nel comune di Pollica per un valore complessivo di un milione di euro.